1R Baraclit Menci, le grandi industrie aretine, cominciano a pensare alla chiusura per contenere i contagi da Covid-19. Il gigante dell'oro, simbolo della produzione aretina, 1R chiuderà da lunedì. Ad oggi conta 300 dipendenti, andranno in ferie per 5 giorni. Tutto questo anche se al momento c'è una nota di Confindustria che ribadisce che la volontà di portare avanti l'attività produttiva è possibile. Il sistema manifatturiero aretino però comincia a scegliere la strada dello stop. Kimet, altro gioiello del gruppo controllato dalla famiglia Squarcialupi, spinta dalla domanda fortissima di Lingotti, andrà avanti. Fermare l'attività, dice, significherebbe spezzare una delle grandi catene di rifornimento del distretto Orafo. Alla Menci, 250 dipendenti che realizzano rimorchi da TIR, si riparte martedì con mascherine e altri strumenti protettivi dei dipendenti. Nel settore artigiano, per quanto riguarda invece la CNA, sono stati raggiunti 48 accordi per il ricorso al Fondo Integrativo di Solidarietà, una sorta di cassa integrazione per microaziende. In tutto interessa 640 dipendenti.